Convenzione tra il Comune di Roma e il Ministero dell'Ambiente per la gestione della riserva naturale e ritorale romano. Vista la legge 21 novembre 2353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi, premesso quanto sopra si sottoscrive il protocollo di intesa che seguito è i gestori per sviluppare una corretta programmazione, pianificazione e prevenzione del settore della lotta agli incendi boschivi. Grazie.